ciao ragazze e ciao ragazzi e bentornati su radio recensioni di bellezza come vi avevo promesso oggi voglio raccontarvi un po la mia esperienza con un problema dermatologico che mi ha afflitto nel periodo estivo per buona parte insomma per lungo tempo e che insomma è stato particolarmente fastidioso non ho trovato diciamo molta informazione e quando vedo che magari su un argomento non c'è particolare rilievo ma potrebbe essere un argomento di interesse comune come ho fatto anche per diciamo per altri problemi insomma che ho dovuto affrontare decido di parlare ne dirci do di raccontarvi un po la mia storia e quindi vi voglio parlare oggi del problema della dermatite atopica o dermatite diciamo allergica che diciamo si è sviluppata durante la seconda metà di giugno e che mi ha accompagnato per quasi tutto il mese di luglio allora solo per contestualizzare quindi non assolutamente per scendere in polemica io non ho mai sofferto di problemi alla pelle ho una pelle di una donna di 49 anni che però anche da ragazza non ha avuto particolari problemi cioè vuol dire che non ho avuto problemi di acne non ho avuto problemi diciamo di pelle impura assolutamente mai nessun tipo di problema dermatologico a livello di sfoghi a livello di insomma eruzioni varie quindi ho sempre diciamo sperimentato molto sulla mia pelle vari prodotti varie case cosmetiche vari cosmetici senza mai riscontrare nessun particolare tipi di insomma di strani effetti cosa è successo dopo la seconda metà di giugno ho effettuato la seconda dose del vaccino e ripeto solo per contestualizzare quindi per raccontarvi un po che cosa è successo dopo qualche giorno comincio a vedere uno strano sfogo che mi esce soprattutto nella parte del collo e che si estendeva piano piano fino al diciamo al collo nella parte posteriore e fino a metà viso non è stata un'eruzione diciamo che ha subito coinvolto tutte queste aree diciamo che partita nella parte centrale sembrava che un po migliorasse sembrava che un po peggiorasse però più andava avanti e più si espandeva e lì la cosa un po mi ha cominciato a insospettire tant'è che io per una buona settimana 10 giorni pensavo che fosse un qualcosa legato al caldo al sudore insomma però insomma mi sembrava anche un po strano perché tanto per descrivervelo era uno sfogo molto piccolo sullo rosso quindi comunque abbastanza diciamo come se ci fosse una base infiammatoria perché era abbastanza rosso e soprattutto mi prudeva quindi avevo un forte prurito e mi dava anche una sensazione di pelle dove avevo questo appunto questo sfogo che era abbastanza fitto cioè non era uno sfogo di qualche pontino cioè dove si sviluppava era abbastanza fitto tant'è vero che io avevo la sensazione quasi come di pelle come posso dire un po un po grossolana ma anche molto ruvida sotto sotto le dita della mano quindi era abbastanza fastidiosa questa questa sensazione peraltro mano mano che il tempo passava la cosa che più mi dava fastidio era sì il russore che si stava espandendo ma la sensazione che avevo nella pelle di pelle che si si andava a come se fosse estremamente sensibile e che si seccasse molto velocemente quindi non sapevo proprio come difendermi da questa cosa ho cominciato insomma a consultare qualche medico qualche dermatologo e lì poi ho capito che dovevo procedere con una terapia diciamo antistaminica quindi non era una cosa cioè avrei potuto anche lasciare che la cosa si diciamo come dire si sgonfiasse da sola che eventualmente ci fosse lo sfogo e poi mano mano andasse via però io avevo urgenza proprio di diciamo di andare di fare di risolvere la questione perché dovevo affrontare un intervento e purtroppo l'area dove si era sviluppata questa questo ritema era proprio quella dove io mi dovevo operare quindi ho sentito poi anche insomma il chirurgo che mi ha che mi ha operato e quindi abbiamo deciso di iniziare appunto una terapia di antistaminica perché appunto dovevamo insomma assolutamente dibellare questo questo sfogo però una cosa che mi sono trovata ad avere molta difficoltà è che non potevo utilizzare i miei soliti cosmetici cioè non potevo per esempio utilizzare prodotti cioè sentivo proprio che la mia pelle aveva esigenza di prodotti molto molto grassi molto molto nutrienti perché era ipersensibile non trovava pace la mia pelle cioè mi prudeva anche di notte peraltro avevo anche una sensazione molto strana di prurito intorno al contorno occhi che è andata poi piano piano via via regredendo ma il discorso appunto di questo sfogo tra il viso e il collo ci è voluto parecchie parecchie settimane di trattamento prima che cominciassi a vedere una via di risoluzione allora questo diciamo questo podcast ve lo voglio anche un po diciamo lasciare come un qualcosa appunto per testimoniare quello che in realtà mi ha aiutato di più di tutto quindi un po ascoltando le esigenze della pelle ho deciso di eliminare per il momento cioè per un lungo periodo ho eliminato tutti i detergenti schiumogeni tutti gli scrub perché la pelle era particolarmente ipersensibile quindi se io andavo a fare qualcosa di diciamo qualcosa di un po più aggressivo sulla pelle subito avevo una reazione di pelle che si andava a tirare a infiammare e quindi questo chiaramente era un effetto diciamo controproducente quindi ho deciso di utilizzare un detergente in olio e un latte detergente comunque un detergente oleoso a me ha aiutato moltissimo prima di arrivare al detergente oleoso però vi voglio dire ancora un'altra cosa una delle cose che più mi ha aiutato in questo periodo in cui ho avuto questo questa forte diciamo dermatite è stato l'amido di riso incredibilmente l'amido di riso è uno di quei prodotti scusate un attimo dunque vi stavo dicendo l'amido di riso è uno di quei ingredienti naturali assolutamente alla portata economicissimi quindi li potete anche avere nella vostra dispensa ma che aiuta tantissimo la pelle infiammata e io quando avevo bisogno proprio di rinfrescare un po' la pelle mi sono lavata il viso anche più volte al giorno con questo amido di riso che se da una parte avevo un'azione sebo regolatrice quindi comunque andava magari nelle altre zone a diciamo ad avere appunto un'azione opacizzante sebo regolatrice invece dove c'era l'infiammazione andava molto a sfiammare e a rinfrescare quindi questo mi è stato molto di aiuto per quanto riguarda e quindi ho utilizzato l'amido di riso diciamo per tutto il periodo in cui ho avuto questo questo sfogo ma sicuramente continuerò a utilizzarlo perché trovo che la mia pelle vada molto d'accordo ed è un ottimo anche rimedio per la realizzazione magari di scrub casalinghi molto molto delicati per quanto riguarda la detersione come vi dicevo mi sono rivolta a prodotti ore oleosi barra cremosi quindi oli detergenti o latte detergenti ovviamente in quel periodo io ho usato proprio il minimo minimo indispensabile il makeup perché la pelle proprio ripeto non ci potevo mettere molto non ci potevo mettere quasi niente perché reagiva male e quindi con questi oli detergenti con il latte detergente riuscivo a fare appunto una detersione molto delicata ma che allo stesso tempo fosse anche nutriente e non portasse via il diciamo sostanze del film idrolipidico perché una caratteristica della dermatite atopica di cui purtroppo i bambini soffrono molto soprattutto i neonati è il fatto che si creano poi come una sorta di zone in cui la pelle è molto secca e grattandosi e magari insomma procurando delle piccole scoriazioni sono la via diciamo trovano la via facilitata per insinuarsi funghi e batteri quindi bisogna stare anche molto attenti a far sì che la pelle abbia sempre un film idrolipidico ben adeguato quindi detersione come dicevo olio detergente o latte detergente ottimo mi sono trovata molto bene un olio detergente tanto per citarvene uno è quello che vi ho già citato varie volte dell'Avon della linea la canada passativa che peraltro ha all'interno tutta una serie di stratti vegetali come mi viene in mente il rosmarino, il timo, la camelia, la camomilla che hanno azioni antinfiammatorie ma anche diciamo lenitive per la pelle quindi sicuramente evitano che ci sia la formazione appunto di questi microorganismi per quanto riguarda poi ovviamente scrub e detergenti schiumogeni per un lungo periodo li ho completamente evitati e al massimo ho utilizzato un po' di amido di riso per fare un leggerissimo scrub sulle parti che non erano interessate all'eritema però ecco cioè semplicemente utilizzando un po' di acqua e dell'amido di riso creando una sorta di pappetta e andando a utilizzare questa polvere che era diventata appunto molto cremosa e andandola a massaggiare vi dirò che l'azione delicata, scrubbante dell'amido di riso è veramente molto delicata ma anche molto efficace soprattutto ripeto per l'azione sebo regolatrice quindi di tenere sotto controllo la formazione di sebo in eccesso per quanto riguarda l'idratazione durante quel periodo io applicavo la crema anche tre volte al giorno perché la pelle era super super secca quindi si seccava velocissimamente non manteneva assolutamente il film idrolipidico quindi non riusciva a mantenere l'idratazione pertanto queste aree in cui c'era appunto l'eritema in una prima fase erano piene di bollicine microscopiche anche queste bollicine che sembravano come quelle per farci capire quasi di una malattia esantematica ed erano anche molto belle e colorite man mano che passava il tempo diventavano come delle bruciature e quindi diventavano anche molto molto secche quindi lì diciamo la crema non riusciva a mantenere l'idratazione a lungo e quindi io ero costretta a mettere la crema anche tre volte al giorno dunque due prodotti con cui veramente anzi i prodotti con cui mi sono trovata meglio sono stati i prodotti della linea all'aloe della Vegas Cosmetics quindi tutta la linea all'aloe l'Intense Spray la crema rigenerante che ha cera d'api olio d'oliva e aloe vera oltre all'olio di argan e di rosa moschita quindi aveva anche un'azione riparatrice ma soprattutto mi sono trovata molto molto bene con l'olio alla canna passativa dell'Avon che non è solamente un olio diciamo a base di canna passativa ma contiene anche altri estratti che hanno appunto un'azione antinfiammatoria sulla pelle quindi io applicavo qualche goccia di quest'olio solamente nella parte che mi interessava quindi 3-4 gocce andavo ad applicarle sul viso e soprattutto nella parte che mi interessava quindi collo, mandibola e diciamo metà viso un altro prodotto con cui mi sono trovata stra bene e quello che veramente mi ha salvato il viso è la Cold Cream di Mostela è una crema in realtà per bambini ed è una crema che nasce proprio un po' per venire incontro all'esigenza appunto di pelle secca che possono avere i neonati perché ha appunto una formulazione a base di estratto di avocado ceramidi e Cold Cream sulla Cold Cream in particolare questa è sulla Mostela trovate sul blog un articolo una recensione su questo prodotto perché è stato un prodotto che ho acquistato per puro caso quest'inverno con dei punti alla farmacia mia insomma quella dove mi servo di più e poi in realtà mi è tornata utilissima proprio durante questo periodo perché io come la applicavo si formava questo film perché contiene anche cera d'api se non ricordo male ma comunque ripeto nell'articolo trovate tutta la descrizione anche dell'inci la descrizione del prodotto e quindi potete farvi un'idea e vi dirò che come io la applicavo sentivo subito la pelle che migliorava cioè la sentivo più più distesa più fresca non tirava più non c'era più quella sensazione di irritazione forte e quindi io con questo applicato tre volte al giorno mi sono veramente salvata la pelle perché veramente riuscivo ad avere un grande beneficio un altro prodotto sempre che ho utilizzato in quel periodo lì perché ripeto il periodo sono state quasi un mese e mezzo in cui ho dovuto assumere antistaminici insomma cercare di curare la pelle con prodotti più puri possibili cioè che fossero comunque puri dal punto di vista sia della composizione quindi degli estratti diciamo presenti ma anche che avessero delle formulazioni per pelli molto sensibili quindi io mi sono diciamo orientata su prodotti adatti per i bambini adatti a pelli sensibili è stata la crema viso idratante della Cerave per pelli da normali a secche con tre ceramedi niacinamide e acido ialuronico senza profumo e non comedogena questa è una crema che io sto cominciando a utilizzare adesso nel periodo diciamo post vacanze perché appunto voglio diciamo migliorare quindi continuare ad avere questa sensazione di idratazione e soprattutto vi devo dire la verità che le ceramidi hanno un effetto benefico sulla pelle straordinario perché vanno proprio a ristabilire il film idrolipedico lo mantengono la pelle idratata a lungo e aiutano appunto che non ci siano delle alterazioni anche a livello della pelle quindi delle alterazioni a livello anche batterico devo dire che mi sono trovata strabene con entrambi sia con la crema della mostela che con la ceravè e quindi sono delle creme che io vi straconsiglio se avete questo tipo di problema ovviamente durante quel periodo ho continuato ad applicare il solare e sinceramente io ho continuato ad applicare l'advance sensitive dell'ambra soleil spf 30 perché era quella che aveva diciamo di più degli estratti che potessero aiutare la pelle a diciamo a mantenere sia essere protetta da un punto di vista dei raggi solari ma comunque anche essere ben protetta e curata dopo tanto tanto tempo la pelle ha cominciato ovviamente la cura quella diciamo di base di fondo ha cominciato a fare effetto e con l'aiuto di questi prodotti io sicuramente sono cominciata a stare meglio a migliorare ho continuato a applicare questi prodotti perché ho proprio sentito l'esigenza quindi la ceravella utilizzo soprattutto la mattina la mustela che è una crema più corposa più densa la utilizzo la sera la utilizzo anche nel contorno occhi per dire perché è assolutamente straordinaria e cosa vi posso dire questi sono stati un po' i prodotti che mi hanno aiutato di più per quanto riguarda il make up ho come ripeto cercato di limitarne l'utilizzo nelle zone dove lo potevo mettere nel periodo in cui c'era proprio tutta questa eruzione piano piano ho cominciato a reintegrare qualche prodotto ho cominciato ad applicare qualche fondotinta make up occhi si sempre quello non mi davano grossi problemi gli occhi infatti l'irritazione all'occhio si è risolta abbastanza velocemente quella che insomma era un pochino più ostica era la parte della diciamo dell'eritema quella al collo e al viso perché quello era proprio insomma un eritema abbastanza diciamo evidente cosa dire per quanto riguarda la dermatite atopica sicuramente la mia non è una pelle soggetta a dermatite non so se in futuro questo problema si potrebbe ripresentare sicuramente da quel momento la mia pelle è una pelle sensibile perché ho notato che comunque reagisce di più magari a qualcosa che non gli piace e pertanto è importante ascoltare la propria pelle quindi se notate che un prodotto non vi ha cioè se avete notato che magari un determinato prodotto scusate vi porta vi ha portato una strana reazione provate a sospenderlo per qualche giorno cercando di capire se è stato proprio quel prodotto o se magari è qualche altra cosa che vi può aver provocato qualche diciamo qualche qualche alterazione a livello cutaneo state sempre attenti perché la pelle è un organo è l'organo più esteso che noi abbiamo su diciamo del nostro corpo e molto spesso lo stress fattori esterni appunto magari dei prodotti non proprio adeguati possono dare luogo appunto a delle 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 eruzioni cutanee quindi niente questi erano i prodotti che io ho utilizzato durante quel periodo ripeto make up molto molto poco perché avevo proprio l'esigenza di tenere la pelle molto idratata e se avessi fatto un'applicazione di fondotinta vari prodotti probabilmente la mia pelle avrebbe potuto reagire in maniera strana quindi anche sul consiglio del dermatologo che ha visto appunto la situazione ho deciso che per insomma per quel periodo avrei limitato il make up insomma gli occhi o comunque dove potevo insomma applicarlo devo dire che ora va molto meglio ma che continuo a utilizzarli questi prodotti perché mi hanno dato veramente una grande non sono state veramente una grande mano un aiuto cioè sono stata anche fortunata a trovare i prodotti che mi hanno aiutato una cosa che invece ho scoperto da poco è che per esempio sto applicando in una zona in cui in questo momento ho una ferita e che c'è una diciamo una forte iversensibilità della pelle è per esempio l'acqua termale di Avene ma anche l'intense spray che appunto a base di aloe è stata molto efficace per quanto riguarda diciamo i fattori infiammatori quindi anche l'acqua termale di Avene mi sento di consigliarvela perché ha ecco un'azione oltre che rinfrescante antinfiammatoria lenitiva e disarrossante quindi niente questa è stata un po' la mia la mia avventura con questa dermatite che poi insomma me la sono portata avanti fino a diciamo ai primi di agosto quando ho incominciato appunto a vedere che finalmente aveva preso appunto la strada della risoluzione però ecco è stata assolutamente una un'avventura che insomma me la sarei risparmiata sia dal punto di vista insomma appunto del disagio che mi ha provocato ma anche perché chi soffre di dermatite atopica ha sicuramente un disagio molto 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 grosso ed è un tipo di pelle che va curata in maniera particolare perché come vi dicevo non è stato facile trovare i prodotti e onestamente io alcuni li avevo a casa e per questo motivo solo per un caso fortuito sono riuscite a trovare dei prodotti che mi hanno mi hanno aiutato e mi hanno anche diciamo dato sollievo e proprio per evitare insomma che a volte ci sia una ricerca su prodotti che magari in realtà non danno nessun beneficio ho deciso appunto di segnalarvi questi che io ho utilizzato e su cui con cui mi sono trovata bene quindi niente questo è quanto questa è stata la mia storia di questa dermatite che ripeto insomma per chi soffre di questo problema essendoci passata non è assolutamente un problema di poco conto perché crea non solo forte disagio ma anche insomma non si sa bene appunto quali prodotti utilizzare quali sono magari prodotti che possono creare qualche problema io spero che questo podcast vi sia stato utile vi sia stato di interesse come sempre mi potete trovare sui canali social facebook instagram come recensioni bellezza mentre sul canale youtube sono recensioni di bellezza questo podcast lo potrete trovare anche nel mio canale youtube e ovviamente potete seguirlo anche attraverso il blog dove appunto troverete anche tutti i miei articoli le mie recensioni e i consigli di bellezza che insomma mi piace condividere con tutti voi bene io spero che vi ripeto vi sia stato utile e ci risentiamo a un prossimo podcast ciao a presto da Maria Paola di recensioni di bellezza a presto ciao